Tra poco Sul canale 17 di Fano TV L'informazione locale Condannato a 8 anni di carcere L'orco che adescava ragazzini su Facebook E poi ne abusava in un vecchio casale a Fano Nuovo look per il sito del comune di Fano Da oggi sarà più semplice Consultare le notizie sulla città della fortuna Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Benvenuti a questa edizione del TG La polizia di Fano ha arrestato nel luglio scorso Un'albanese di 40 anni per prostituzione minorile Pochi giorni fa è arrivata la sentenza del Tribunale di Ancona Che ha condannato l'uomo a 8 anni di carcere Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Adescava su Facebook ragazzini dai 13 ai 16 anni Tra cui almeno 6 fanesi e 2 di origine albanese Li faceva ubriacare e poi li violentava A Shaulian un uomo di 40 anni anche lui albanese È stato condannato dal Tribunale di Ancona a 8 anni di reclusione Per i reati di prostituzione minorile Violenza sessuale, corruzione di minori e violenza privata Il giudice inoltre ha disposto l'espulsione dall'Italia Al termine della pena che sta scontando fuori regione I fatti risalgono a luglio scorso Quando i poliziotti del commissariato di Fano Coordinati dal vicequestore aggiunto Stefano Seretti Hanno ritrovato tre minoregni ubriachi Di 13, 14 e 15 anni In un parco vicino alla zona dei passeggi Dalle loro dichiarazioni rilasciate In quell'occasione è emerso un terribile quadro di violenze e abusi L'uomo li portava a Ronco Sambaccio a volte in una villa All'insaputa dei proprietari quando questi non c'erano Oppure in un casolare isolato L'orco si faceva presentare l'amico dell'amico Gli somministrava vodka e sprizze e approfittava di loro sessualmente A volte pagandoli per le prestazioni con piccole somme di denaro Dai 3 ai 20 euro O addirittura con la promessa di pacchetti di sigarette Poi alcuni giorni dopo la vicenda del parco Il quarantenne è stato arrestato Quando il 18 luglio Gli agenti lo hanno colto in flagranza di reato Si era infatti appartato con un sedicenne nel casolare abbandonato La polizia ha ricostruito che i soprusi duravano da gennaio 2014 Ma gli errori non sono finiti qui Si è scoperto in seguito che i ragazzini prima degli abusi Assistevano alle violenze compiute nei confronti di altre giovani vittime A quelli che assistevano per la prima volta faceva assistere all'atto sessuale Che compiva con uno o due dei ragazzini E poi la volta successiva passava a fare gli atti sessuali Con quelli che precedentemente avevano assistito Venivano avvescati tutti a Fano A Fano quasi centro città In zone semicentrale di Fano In zone lungo la via Roma La via Roma di Fano Dove ci sono spesso dei parchi, dei parchetti Lui li avvicinava lì Entrava in contatto con questi giovani giovanissimi Avrebbe continuato se, ripeto, non fosse stato per il nostro immediato intervento Julian, che utilizzava il suo profilo Facebook In cui compariva con il nome Giulio Era già finito in manente nel 2013 per lo stesso reato Compiuto a Lucrezia In quell'episodio era stato denunciato anche per abbandono di minore Infatti per portare a termine la violenza Aveva lasciato suo figlio da solo Essenziale la collaborazione La Polizia di Stato vive di collaborazione E mi è sembrato giusto e doveroso lanciare questo appello Nei confronti di tutti Un appello generico Nei confronti di chi è a conoscenza Di episodi che possono interessare Queste persone deboli Quindi i minori Verso cui noi dedichiamo veramente tanto tempo E anche nei confronti delle anziane Delle persone che hanno bisogno Ma ho voluto fare anche un appello generico Nei confronti di quest'orco E cioè se qualcuno è a conoscenza Di persone che hanno frequentato questo signore O se l'hanno visto in qualche luogo particolare Noi saremo grati di accogliere questa Questa dichiarazione fatta in modo Molto anche generico Molto riservato Perché poi noi vorremmo comunque completare E dare un cerchio definitivo A tutta l'attività investigativa Nei confronti di questo personaggio E di questi orchi Che si rendono protagonisti di questi episodi Veramente obrobriosi E rimaniamo sempre nella cronaca I carabinieri di Filotrano Hanno denunciato un agente di commercio Di 53 anni fanese Si è impossessato di una somma Di 850 euro di una sua collega Mentre si trovava nella sua abitazione Inoltre con il Bancomat Dattogli dalla collega Per acquistare dei medicinali Avrebbe fatto spese e prelievi Per altri 650 euro L'uomo è stato denunciato Per furto aggravato Cambiamo argomento Parliamo del traffico E dei disagi Che si sono avuti Quest'oggi sul Nazionale Problemi al traffico Con code di 3 km Questa mattina Lungo la statale Che collega Fano e Pesaro A causa del cantiere Aperto dall'ANAS Per il rifacimento Del manto stradale All'altezza di Fosso Segiore Disagi quindi Per gli automobilisti Che sono rimasti incolonnati Anche per più Di 20 minuti Ed ora Il Vice Ministro Delle Infrastrutture E dei Trasporti Riccardo Nencini Sabato prossimo Sarà a Fano Per sostenere La candidatura A consigliere regionale Di Boris Rapa Vediamo Sabato pomeriggio Sarà presente Qui a Fano Il Vice Ministro Riccardo Nencini Nonché segretario nazionale Del PSI E verrà Perché A sostenere La mia candidatura Alle campagne elettorali E regionali E si parlerà Di Dei principali problemi Che affliggono Questo nostro territorio A partire Dalla Fano Grosseto Dove e a che ora Si svolgerà l'incontro? Allora Si svolgerà Alla marina di Cisera Al locale Fish House Alle 15 Del pomeriggio Di sabato Per cui È un incontro Aperto a tutta la cittadinanza E chi volesse Partecipare Saremo contenti Perché aspettiamo Numerose presenze Proprio per discutere Delle problematiche Del nostro territorio Rimaniamo in clima Elettorale Perché Il Ministro delle Riforme Maria Elena Boschi Sarà a Pesero Sabato 9 maggio Alle ore 11.30 Alla pescheria Di corso 11 settembre Con lei ci sarà Anche il candidato Presidente del centro-sinistro Luca Ceriscioli E tutti i candidati del partito In consiglio regionale Andrea Biancani Federico Talè Renato Claudio Minardi Franca Foronchi Lucia Ferrari Gino Traversini E Raffaella Vagnerini Ed ora il lavoro I sindacati di categoria Insieme ai lavoratori Degli permecati Oshan Di Ancona E Fano Dopo l'annuncio Dei tagli del personale Da parte del colosso francese La grande distribuzione Hanno indetto Uno sciopero Per l'intera giornata Di sabato 9 maggio Nelle marche Sono previsti Presidi dei lavoratori Fuori dagli ipermercati Dalle ore 8.30 A Dancona E dalle ore 9 A Fano Invece Nella sala della concordia Del comune di Fano È stato inaugurato Il nuovo sito Del comune Appunto Vediamo come sarà Grafica migliore Una ricerca più rapida Delle informazioni pubblicate E contenuti disponibili In 43 lingue Nuovo look Per il sito Del comune di Fano Che da oggi Vanta di alcune novità Come l'inserimento Degli open data Cioè dati resi Più comprensibili Dai cittadini L'obiettivo È quello Di rendere Sempre più trasparente Il lavoro Dell'amministrazione comunale Un sito innovativo In cui abbiamo Già dalla prima visualizzazione Vediamo Un template minimale Dove Vengono raggruppati Le categorie principali Per cui Tutta la sezione De notizie Sarà Su Vivere la città È un template Responsivo Che quindi Si adatta A qualsiasi device Quindi cellulare Monitor Quant'altro Touch Visto che stiamo usando Un touch screen Qui ci sarà Tutta la sezione Notizie Poi Tornando nella Omb Un'altra sezione Interessante È quella Per retrocompatibilità L'impresa Il cittadino Dove abbiamo Il vecchio menu Riproposto Per non Spiazzare Diciamo Il cittadino Per il resto È un Work in progress Nel senso È un punto di partenza Per poi Crescere sempre più Nel discorso Servizi online È oltretutto Sviluppata Con le risorse interne Quindi gratuita E non ha avuto Nessun costo aggiuntivo Parlente Questo ci tengo a dirlo È una cosa Molto importante Buona navigazione Spero riusciate A trovarvi bene Col nuovo portale Del comune di Fano Da quanto tempo Non veniva modificato Questo sito? Il sito del comune di Fano Non veniva modificato In maniera strutturale Dal 2006 Erano quindi quasi dieci anni Ed era assolutamente urgente Proporre un nuovo portale Istituzionale L'abbiamo fatto Con una nuova filosofia Rendendolo più semplice Più agibile Più fruibile ai cittadini E investendo in particolare Su due aspetti La trasparenza In particolare Leglio open data Cioè tutti quei dati Non solo fruibili Ma anche pienamente leggibili Alle cittadine e cittadini Questo è un impegno Che peraltro Il sindaco Seri E tutta l'amministrazione comunale Avevano assunto Attraverso la sottoscrizione Della campagna nazionale Riparte il futuro Proprio per rendere partecipi Il più possibile I cittadini Alla vita dell'amministrazione comunale Mettendo a disposizione Non solo informazioni Ma anche servizi Il nuovo sito Non è un punto di arrivo In questo senso Ma è un punto di partenza Proprio perché rimarrà Un cantiere aperto Che avrà modifiche E aggiornamenti Nei prossimi mesi Nei prossimi anni Si arricchirà ulteriormente Ma già oggi Vuole essere uno strumento Per migliorare La qualità del rapporto E dell'interfaccia Tra il comune di Fano E la nostra comunità E anche l'informa E anche l'informa giovani Ha cambiato pelle È diventato Dedalo E si tratta di un servizio Offerto alla Mediateca Montanari A disposizione di tutti i ragazzi In cerca di un'occupazione Si chiama Dedalo Come il protagonista Di un romanzo Di James Joyce Come il personaggio Della mitologia classica Inventore del famoso Labirinto del Minotauro Si tratta del nuovo Progetto sperimentale Realizzato grazie Alla sinergia Tra gli assessorati Alle biblioteche E alle politiche giovanili Agenzia Giovani E Mediateca Montanari Inaugurato ieri mattina La Memo All'obiettivo di aiutare I giovani A orientarsi Nel complesso mondo Della conoscenza E dell'informazione Ed è il nuovo servizio Cittadino Di Informa Giovani Io ritengo che in questo momento In cui a Fano Il job registra 5.800 disoccupati Il tema del lavoro Sia fondamentale Soprattutto per i giovani Per le politiche giovanili Si intendono i ragazzi Tra i 16 e i 35 anni E mi sembrava giusto Ragionare su un servizio Che sia il più aperto possibile Alla cittadinanza Lo scorso In agenzia giovani Che è stato aperto Fino a dicembre Era negli spazi Del Sant'Arcangelo Ci tengo a sottolineare Non è una copia del job È un servizio che ti aiuta A trovare delle informazioni Sul lavoro Ci sarà una bacheca Seguita da due ragazze Linda e Sara Che ringrazio Della cooperativa Crescere Che darà informazioni ai ragazzi I servizi offerti Sono gratuiti Comprendono L'apprendimento linguistico La redazione di curriculum vitae E forniranno Un aiuto Per interpretare I bandi europei La scelta Di farli vivere Nella seconda piazza Della città Cioè nella Meditateca Montanari È una scelta Non solo organizzativa Ma anche concettuale Nel senso che all'interno Di questi spazi E all'interno di queste attività Noi vogliamo anche declinare Un'idea di socialità Che riguarda sicuramente Il mondo giovanile Ma è proiettata A tutta la città Il primo aprile scorso Inoltre è stato firmato Un protocollo Con gli altri informa giovani Della provincia Di Pezzaro Urbino Per condividere E mettere in rete Tutte le conoscenze Aprirà il martedì E il giovedì Dalle 15 alle 19 E il venerdì mattina Dalle 10 alle 13 Siamo operativi già da oggi Apriamo le porte Siamo pronti ad accogliere Tutti i ragazzi Che hanno bisogno di informazione E che vogliono Ecco Conoscere il progetto Ebbene Sempre la Memoteca Montanari Domani prende il via Il secondo ciclo di incontri Dedicato alla Grande Guerra Con lo scopo di approfondire Il tema della Grande Guerra Alla Mediateca Montanari Memo Si svolgerà Un secondo ciclo di incontri Se nelle elezioni E conferenze Del novembre scorso Si era concentrata L'attenzione su cosa fu La prima guerra mondiale Cioè su cause Svolgimento Conclusione E conseguenze In questa serie Il focus sarà Su come fu vissuta Non tanto fattori Quanto persone Non tanto processi Quanto esperienze E impressioni Destini Ruoli In nazionalità diverse Che si devono confrontare Con un avvenimento Tragico e straordinario Allo stesso tempo Che incide fortemente Forse in modo indelebile Sulla vita Di ciascun individuo Il primo incontro È previsto Per giovedì prossimo 7 maggio E a seguire Per gli altri tre Giovedì successivi Del mese di maggio Per cui andiamo a finire Sostanzialmente Proprio Ai 100 anni esatti Dall'inizio Della guerra Da parte dell'Italia E appunto Inizieremo Con la presentazione Di tre libri Tutti pubblicati Recentemente Tutti di autori Professionisti E ricercatori Locali Per chiudere poi Con una rassegna Sul vissuto Della città di Fano Della guerra Letta attraverso Le cronache Di giornali Di giornali locali Apriamo la pagina Dello sport È dedicato Alla possibilità Per le strutture Sportive Di ricevere Mutui a tasso Agevolato Il primo Di una serie Di incontri Formativi Organizzati Dal CONI Per affrontare Insieme alle realtà Del territorio E ai cittadini I principali temi Inerenti al mondo Dello sport È un'opportunità Per i gestori Di impianti sportivi Gli amministratori Ma anche Le parrocchie E gli enti religiosi Le onlus Le federazioni sportive E gli enti di promozione Il convegno Si svolgerà Venerdì 8 maggio Dalle ore 17.30 Al Tag Hotel Di Fano Ed ora Un'ultima notizia Di sport Ma di sport Praticato È fanese E si chiama Stefano Eusebi Classe 1979 È il campione Italiano Di maratona Per geometri Il professionista Iscritto al collegio Geometri Della provincia Di Pesero Erbino Si è infatti Aggiudicato Il primo posto Sul podio In quello Che si è svolto In seno Alla Colle Marathon Vittoria Casalinga Dunque In un evento Nell'evento Che richiama Professionisti Da tutta Italia Bene Complimenti al geometra Per la sua vittoria Io mi fermo qui Grazie per essere stati con noi E per aver seguito Questa edizione Di Occhio alla Notizia Che tornerà Domani sera Naturalmente Puntualmente Alle 20.30 Buona serata a tutti voi Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori